Porte chiuse con la speranza che possa aprirsi un portone. Nella domenica con i cancelli del San Francesco chiusi ai tifosi, la Nocerina punta infatti a conquistare la prima vittoria stagionale. Mister Fontana ha provato e riprovato umini e schemi in queste ultime ore che lo separano dalla sfida contro una compagine che gli sta particolarmente a cuore. Lui è di Catanzaro, ha iniziato calcisticamente con il Catanzaro, ne è rimasto tifoso. Non sarà insomma una partita come le altre e lo ha detto da tempo Gaetano Fontana. L'allenatore dei Molossi ha recuperato alcuni calciatori, non ne avrà a disposizione altri. Di certo punterà sulla coppia centrale difensiva composta da Romito e Ciro De Franco. Quest'ultimo ha mosso i primi calci veri ad un pallone proprio con il club calabrese. Sono sposato con una catanzarese, abito a Catanzaro e devo tutto alla città di Catanzaro perché comunque è da lì che ho cominciato a dare primi calci veri da professionista. Quella di Benevento sicuramente è stata una delle nostre migliori partite. Cerchiamo di continuare da domenica e penso che il risultato arrivi dai. Catanzaro di Brevi che cercherà di conservare l'imbattibilità visto che finora ne ha vinte due e ne ha pareggiate altrettante e che arriva anche dal turno di riposo con i quali i calciatori giallorossi avranno di sicuro ricaricato al meglio le pile. Brevi ha più volte detto che alla classifica delle aquile manca qualche punto, forse riferendosi al pareggio interno del debutto col Viareggio o anche alla trasferta di Prato successiva della seconda giornata. Una squadra che segna poco il Catanzaro ma che subisce pochissimo, solo due gol infatti alle spalle del portiere. Miglior difesa del Girono insieme al Prato e il difensore, Rigione, carica i suoi. Abbiamo un organico forte e sicuramente chi sarà chiamato in causa a posto di questi giocatori darà un grosso contributo alla squadra. Non lo so se sia utile perché comunque stiamo andando parecchio bene, però è una sosta che andava fatta perché ogni squadra deve farne una, meglio che sia avvenuto adesso che all'inizio e che non dopo. Sì è un campionato un po' strano per quanto riguarda queste prime cinque giornate, però è un campionato difficile e sicuramente le squadre forti di questo campionato che adesso occupano le parti basse della classifica, si faranno valere e risaliranno alla classifica.